Ciao a tutti gli amici e i fan della pagina dell'Orto Dio finalmente ci vediamo per la parte 9 della rubrica Cambia Vita questo video sarà un po' lungo, vi avverto perché vorrei spiegare tanti concetti vi chiedo scusa se non mi sono fatto sentire ma sto ancora con dei dolori fortissimi al petto ma soprattutto stavo aspettando un nuovo elettrodomestico che mi è appena arrivato, che vi volevo mostrare ma andiamo subito a noi come mi scaldo questo inverno? allora, prima di parlare di come scaldarsi dobbiamo partire dal concetto di isolamento è molto importante isolare la propria casa dal caldo, dal freddo, ma soprattutto anche dall'umidità soprattutto se vivete vicino al mare, vicino a un lago, vicino a un fiume in una vallata anche qui all'Orto Dio molti pensano che abito in montagna ma io sto poco più alto di Roma qui stiamo a 120 metri sul livello del mare e qui intorno ci sono delle montagne molto più alte anche oltre 1000 metri quindi stiamo in una specie di vallata anche qui c'è molta umidità quindi la prima cosa da cui isolarsi è l'umidità che oltre che ti fa percepire di più il caldo di più il freddo ti muffa i muri, ti attacca le ossa è un bel casino quindi è importante costruire case che abbiano dei buoni isolamenti sia dall'umidità e sia termici quindi dobbiamo scegliere se ancora siamo fortunati e la casa la dobbiamo costruire possiamo scegliere dei buoni materiali ben isolati altrimenti se casa l'abbiamo già fatta possiamo fare dei cappotti termici delle intercapedini ci sono vari modi avete visto col 110% si poteva fare il cappotto termico a gratis ecco era proprio per questo motivo e ovviamente la prima cosa a cui pensare sono proprio le porte e le finestre quindi se non ce le avete porte e finestre che siano infissi in alluminio ora si vedono un po' male col sole comunque infissi in alluminio o in pvc con doppi vetri, tripli vetri quindi questo vi isolerà molto dall'umidità e dalla temperatura e con una casa ben costruita andate su internet andate a cercare il concetto di case passive passive house e active house per case che hanno bisogno di sempre meno energia per scaldarsi, per raffreddarsi e in più sono case che producono energia magari con i pannelli isolari fino al punto che da passiva diventa addirittura attiva quando produce più di quello che consuma ma anche una casa passiva che non consuma niente che si riscalda semplicemente con il calore dei corpi delle persone all'inverno e che l'estate è abbastanza fresca da non dover usare condizionatore e niente sarebbe un'ottima casa quindi bisogna puntare a quello alla casa isolata al massimo dopodiché possono intervenire gli elettrodomestici e secondo me la cosa più importante è il deumidificatore ed ecco qui il nostro bellissimo deumidificatore che ci è appena arrivato quello mio vecchio lavorava ininterrottamente dall'inizio del 2019 dopo più di tre anni e mezzo di glorioso servizio ha deciso di rompersi quindi ho ricomprato questo l'ho cercato bene l'ho scelto classe A++++ tedesco quindi consuma meno di 290 watt al massimo perciò io lo posso lasciare sparato giorno e notte gli dico tienimi l'uidimidità al 50, al 60, al 40, al 70, al 30 quanto voglio io e volendo lui sta acceso giorno e notte e mi tiene l'umidità come dico io tra l'altro questo è un modello che fa anche da purificatore d'aria qui dietro c'ha un filtro EPA e ha i carboni attivi e poi dopo c'ha lo ionizzatore vedete l'ho già attivato c'ha anche la lampada a raggi UV quindi questo non è solo deumidificatore fa anche da purificatore d'aria si può collegare col wifi c'ha un sacco di funzioni per asciugare i panni la funzione notturna più silenziosa l'ho pagato meno di 300 euro penso che sia un ottimo investimento qualcuno potrebbe dirmi ma come tu già c'hai il condizionatore ti fa quello da deumidificatore volendo c'ha la funzione deumidificatore perché comprarne un altro sentite qua perché non si può mai deumidificare l'aria senza farla diventare o più calda o più fredda c'è qualche idiota che sulle recensioni dei deumidificatori dice ma manda l'aria calda ma manda l'aria fredda è normale per deumidificare l'aria deve essere mandata o più calda o più fredda del normale quindi siccome il condizionatore quando deumidifica mi manda aria più fresca del normale va benissimo per l'estate così magari tieni acceso solo il deumidificatore e non il condizionatore consumi molto di meno però all'inverno ti manda aria fredda non è piacevole questi qui portatili che fanno solo da deumidificatori invece generalmente ti mandano aria calda infatti se sentiamo qui c'è un'aria leggermente calda quindi con un buon deumidificatore oltre a scegliere l'umidità più adatta di casa che in genere può essere un buon 50-55% ci avrete già un po' d'arietta calda o frescolina che vi aiuterà a rinfrescarvi l'estate o in questo caso a riscaldarvi l'inverno se il riscaldamento del deumidificatore non ci basta perché è quello che è ci abbiamo sempre volendo la pompa di calore del condizionatore che come abbiamo visto anche dal video di Giacomo ci dice che c'è un rendimento molto alto il problema è che la corrente costa un botto quindi potrebbe non essere sufficiente potremmo andare a spendere troppo ed ecco qui che interviene una cosa che ancora non vi ho fatto vedere ma che consiglio a tutti che è la mitica stufetta a legna per scaldarsi l'inverno ecco qui la mia è un po' vecchia ne ho due, ce ne ho una anche alla casa degli ospiti vedete qua dentro ci si mette la legna o qualsiasi altro carburante attenzione ci possiamo mettere il pellet il nocciolino, ci possiamo mettere anche altri tipi di carburanti però qual è il vantaggio? il pellet te lo devi per forza comprare il nocciolino te lo devi per forza comprare la legna no la legna se come me c'hai tanti olivi fai le potature delle olivi bruci quella qua nel bosco ci stanno un sacco di piante tra cui un sacco di piante infestanti tipo l'ailanto vai lì, te le tagli, fai pure bene al bosco e ti rimedi la legna quindi la legna volendo ricordatevi dicevo ci vuole un fazzoletto di terra possibilmente un pezzettino lo teniamo a bosco perché? per avere legna gratis legna a basso costo con la stufetta a legna possiamo utilizzare anche tutta la carta i nostri rifiuti di carta possiamo utilizzarli per accenderla e questa stufetta nello specifico ha un forno come potete vedere quindi io qui posso cuocere delle cose ma anche questa piastra qui è una piastra per cucinare quindi qui ci entrano anche tre, quattro padelle, pentole con cui puoi cucinare quindi l'inverno una volta che io accendo la stufetta a legna smetto di usare la cucina normale la cucina a gas che speriamo presto diventerà una cucina a induzione e mi cucino direttamente sulla legna che ha pure il sapore più buono questa qui come vedete ha anche un piccolo serbatoio qui porta 5 litri d'acqua quindi ti scalda l'acqua a 90-100 gradi l'inverno può far comodo se non ce l'hai scaldata col sole ce ne sono di altri tipi che si possono collegare direttamente ai termosifoni di casa se avete una casa grande dovete scaldare altri locali io sono fortunato ho un monolocale ci sono proprio dei veri e propri scaldabagni per scaldare l'acqua che vanno a legna o anche a legna ripeto la legna è interessante è vero che inquina a bruciare la legna però se tagli le piante nel modo giusto quelle ricrescono quindi una quercia già cresciuta in un bosco in mezzo a tante altre querce non è che sequestra così tanto carbonio perché non è che mette più tante foglie tanto fusto tanta corteccia mentre se tu la tagli quella con tutto l'apparato radicale piano piano in 2-3 anni ricresce e quindi tutto quel carbonio che tu hai bruciato nell'aria quando hai bruciato la quercia la nuova quercia che ricresce se lo rimagna perciò in questo senso bruciare legna è meno inquinante che bruciare altre cose che non ricrescono ovviamente quando andate a potare le piante a tagliare le piante dovete fare dei tagli intelligenti se non sapete tagliare il giusto tipo di piante nel giusto ambiente se non sapete come fare occhio un po' dappertutto in Italia nei boschi dove c'è la macchia si può chiedere il permesso per andare anche a raccogliere la legna dalla macchia ti dicono quali sono gli alberi che puoi tagliare quali sono gli alberi che non puoi tagliare perché anche lì c'è un senso perché è vero che è brutto tagliare gli alberi ma in un bosco con migliaia di alberi pochi alberi di più o di meno non fanno una grossa differenza di ossigeno anzi magari per il discorso che facevo prima in qualche modo sequestri più anidride carbonica ad avere un ricambio e a tagliarli più spesso l'importante è andare a informarsi bene così per cercare di fare meno danni possibile io penso di avervi dato abbastanza informazioni quindi deumidificatore condizionatore stufetta a legna adesso all'ortodio ne abbiamo rimediata anche una per la casa degli ospiti che ancora non c'è nessuno nella casa degli ospiti ma se qualcuno arriverà quest'inverno c'erà anche una bella stufetta a legna e niente io penso di avervi detto tutto speriamo di sentirci presto continuo la mia convalescenza che palle sono più di 5 settimane che sto a casa a riposo vorrei andare a funghi invece oltre che sto senza macchina ho sti dolori forti al petto però dai che dobbiamo fare sopportiamo c'è de peggio ci sono i fascisti al governo e ciao belle vi mando un abbraccio dall'ortodio e speriamo di vederci presto ciao